Dopo qualche giorno di riposo abbiamo ripreso una preparazione completa dove cerchiamo di curare sia la parte fisica che quella tecnica. È chiaro che dal punto di vista tecnico puntiamo più sulla parte individuale, stiamo cercando di allenare al meglio i ragazzi che poi troveranno spazio nella Nazionale Under 23. Mi riferisco soprattutto in questi giorni a Pesaresi e Fedrizi. Nella parte fisica stiamo facendo anche un richiamo dal punto di vista della forza e un po' di attività aerobica affinché possano sfruttare questo periodo per colmare quelle lacune dal punto di vista fisico che si sono sviluppate durante l'anno e che possano farsi trovare pronti alla ripresa dell'attività della squadra nazionale. Tra le altre cose ci avvaliamo anche dell'apporto dei ragazzi del nostro settore giovanile così abbiamo la possibilità di monitorarli giorno per giorno e vedere i progressi che stanno facendo perché quest'anno dal punto di vista giovanile sono arrivate parecchie soddisfazioni, abbiamo vinto parecchi campionati e adesso si tratta di vedere con i più grandi se ci sarà qualche altro atleta da poter inserire nella rosa della prima squadra se non magari il prossimo anno, magari l'anno successivo ancora. Alla prossima Alla prossima Alla prossima Alla prossima Alla prossima